Il caro Lapenta sarà sottoposto a una perizia psichiatrica, lo ha deciso la procura della Repubblica di Lago Negro, che ha nominato un perito che sottoporrà a tutti gli esami e test del caso il 18enne apprendista macellaio. Ricordiamo che il ragazzo è accusato e reconfesso dell'omicidio dell'Antonio Alexander Pascuzzo, avvenuto il 6 aprile nei pressi della piscina comunale. Il corpo di Pascuzzo è stato ritrovato dopo 8 giorni. Subito dopo è stato fermato Lapenta, con il quale Pascuzzo aveva dei rapporti inerenti al traffico delle sostanze stupefacenti. Proprio per lo spaccio di droga è avvenuto il delitto, secondo gli inquirenti e secondo quanto confessato Lapenta, in seguito all'arresto e al trasferimento in carcere, è stato deciso dalla procura, quindi la perizia psichiatrica, una decisione che trova l'approvazione anche dell'avvocato di Lapenta, Michele Di Jesu, che vuole sottoporre il proprio assistito a tutti gli esami, proprio per accertare che ogni aspetto di questa vicenda venga chiarito.